Prova di forza per il Trivento, che serve il poker 4-0 ai danni del malcapitato Termoli 2016 nel caldo pomeriggio del Comunale. Mattatore indiscusso di giornata è il numero 10 locale Alex Minichillo, autore di una tripletta che ha permesso ai ragazzi di Mister Civico di mettere in cassaforte altri tre punti preziosi. Ad inaugurare il Valzer delle occasioni per il Trivento, in divisa bianca per questo weekend, è stato il numero 8 Mirko Catalano, che, al quinto minuto di gioco, sciupa clamorosamente una ghiotta a chance spedendo di testa alto sopra la traversa difesa da cantatore. Lo stesso estremo difensore ospite è chiamato a smanacciare in corner il tentativo da fuori di Amorosa, arrivato 7 giri di lancette più tardi. Il Trivento riesce a concretizzare il suo dominio tattico al ventesimo, quando sale in cattedra Minichillo che si buca le spalle di Barrassi, finalizzando dal due passi l'ottimo break sull'out di destra di un propositivo garrone. Il 10 Triventino si ripete al minuto 32, quando un'incomprensione della retroguardia termolese si tramuta nell'occasione perfetta per Minichillo per scaricare in rete il pallone del 2-0. Il Termoli 2016 sembra accusare il colpo, abbozzando una timida reazione al trentottesimo, quando Ricciuti si rende protagonista di una conclusione in semi rovesciata su cui Taddeo deve sporcarsi i guantoni per la prima volta. L'arbitro rosa della sezione di campo basso manda le due squadre a riposo sul parziale di 2-0 e con le immagini di Mirko Palladino passiamo alla ripresa. La seconda frazione di gioco si apre con il terzo squillo personale di Minichillo, che con un piazzato dal limite dell'area di rigore, sporcato da un difensore avversario, manda in estasi i tanti tivosi giunti al comunale. Il 3-0 pare uno stimolo giusto per il Termoli 2016 per innescare una reazione d'orgoglio, che Ricciuti prova a concretizzare al 55esimo. Il fantasista ospite trova però sulla sua strada un attento Taddeo, che con un intervento di ordinaria amministrazione sventa il pericolo. Nel momento migliore del Termoli arriva però l'ultima marcatura di giornata per il Trivento, siglata stavolta dal neo entrato Iocca, che raccoglie tutto solo al centro dell'area di rigore il delizioso invito del solito Minichillo. Nonostante i quattro gol incassati, i giallorossi non si arrendono e vanno alla ricerca del gol della bandiera all'86esimo, ma il piazzato di Pannitto si accomoda a docile tra le braccia di Taddeo. Al fischio finale tanto entusiasmo in casa Trivento, che bissa così il successo della scorsa settimana e sale al comando della classifica. Meccanismi ancora da ingranare invece per i ragazzi di Mister Corazzini, che proveranno a riscattarsi già nell'impegno infrasettimanale di Coppa contro la purisportiva Fortore.